I 712 lavoratori in esubero nella sede tarantina di Teleperformance, la multinazionale francese dei call center, dipendono dalla perdita dei clienti come Enel e Mediaset fino ad oggi lavorati su Taranto e non dallo spostamento in Albania della commessa all'Italia. L'ha confermato questa mattina l'amministratore delegato Lucio Polloni Ghetti durante un incontro con la stampa ha convocato per puntualizzare soprattutto alcune affermazioni dei sindacati. Ghetti ha precisato le cifre della crisi dell'azienda che ha registrato perdite di 3 milioni e 300 mila euro nel 2009, cresciute a 7 milioni e mezzo l'anno scorso e nei primi sei mesi di quest'anno saranno 5 milioni e mezzo. Per la prima volta, detto all'amministratore delegato, gli stipendi nei prossimi mesi potrebbero non essere pagati con regolarità. La soluzione è stata ripetuta ancora una volta e nella regolamentazione del mercato, nell'applicazione di regole che mettano tutte le aziende su un piano di parità. L'amministratore delegato, affiancato da Gabriele Piva, direttore del personale, e da Paolo Sarzana, direttore comunicazione e rapporti istituzionali, ha confermato che la procedura di mobilità avviata per i 712 lavoratori tarantini è obbligata e non può essere sospesa e che una soluzione va trovata d'intesa con le istituzioni locali entro il 4 luglio, quando scadranno i contratti di solidarietà che hanno consentito di resistere per un anno alla crisi. Alla conferenza erano presenti anche il sindaco di Taranto Ezio Stefano, accompagnato dall'assessore Dante Capriulo e l'assessore provinciale al lavoro Luciano De Gregorio. Hanno ripetuto che è doveroso difendere l'occupazione.